L'innovazione che nasce dal rossetto, dal rossetto rosso tra altre cose. Vedi che me lo sono messo oggi. Lo porti qua di sempre rosso, non è un'altra cosa che si aveva messo a posto in virtù dell'articolo. Ma non parliamo di innovazione rossetti, ma di innovazione che in una presentazione del 1999 di questo Kevin Ashton, in una presentazione scrisse in una slide IoT e da lì nasce il mondo dell'IoT che oggi, non dico che sia conosciuto ai più, però comincia ad essere decisamente, parliamo di qualche miliardo di apparati che parlano tra di loro attraverso tecnologia IoT. Per cui direi che è un mondo che si è aiotizzato abbastanza. Si è aiotizzato, bellissima. Allora, partiamo con ieri innovazione. Massimo Sideri ci racconta una storia molto bella che ti dico, non conoscevo nemmeno io, pur avendo lavorato appunto nell'IoT, per cui effettivamente è un po' dietro le quinte di quella che è stata un po' l'evoluzione e la nascita soprattutto, diciamo, di questa materia, chiamiamola così. Appunto, Kevin Ashton viene in Italia per una serie di conferenze, viene intervistato appunto per il Corriere della Sera, Corriere Innovazione, che tra l'altro vi suggerisco di andarlo a vedere perché è in fase gratuita, quindi sono contenuti disponibili in questo periodo all'interno del sito del Corriere. Qual è la storia? Dice, nel 1999 un signore appunto, Kevin Ashton, lavorava in Procter & Gamble e era il Junior Project Manager per quanto riguarda un prodotto, un rossetto, un rossetto che ovviamente era stato immesso sul mercato ma c'era un problema tecnico, questo rossetto finiva sempre sugli scaffali, hanno provato a mandare una serie di persone per fare delle verifiche, cercare di capire, si rende conto che c'è un disallineamento tra quella che è la richiesta del mercato e quelle che sono le scorte, perché in effetti non è che mancasse la produzione di questo rossetto, quanto piuttosto non riusciva ad arrivare in tempo sugli scaffali per essere acquistato. Quindi da questa riflessione, che è una riflessione quasi di natura più logistica, nasce l'idea di andare a fare, di trovare una soluzione, dove ci sono gli oggetti stessi che comunicano tra loro e quindi forniscono quel dato, quel dato che l'uomo non riesce ad immettere per mancarsi appunto di informazioni e da lì l'idea di scrivere su una slide, appunto nella slide economy come la chiamano, questo nome, l'internet delle cose. Devo dire che non è un nome chiarissimo, cioè se noi pensiamo, se uno dice internet delle cose non è immediatamente comprensibile, però è anche vero che è un approccio in effetti traslato da quello che è il concetto di internet, cioè in internet io ho i dati delle informazioni che vengono interconnesse, un network di informazione con l'hyperlink, in questo caso la stessa cosa analogamente è l'internet delle cose, dove sono gli oggetti che si scambiano delle informazioni. La storia inizia appunto così quasi per caso e continua con di fatto la difficoltà dello stesso Kevin Ashton a far capire ai manager di Procter & Gamble l'importanza di questa prospettiva, di questa visione delle cose. Lui passa all'MIT di Boston e all'interno del centro di ricerca mette insieme un pool di oltre 100 aziende per iniziare a lavorare su questa tecnologia e da lì insomma è storia. Tra l'altro c'è un passaggio interessante sulla finale, esattamente, eccolo qui, sul social tech, cioè dice a un certo punto l'internet delle cose è l'idea anche di portare una visione diversa dell'innovazione, al punto tale appunto che la chiama innovazione sociale, perché l'internet of things potrebbe cambiare, applicata in situazioni soprattutto in paesi di sviluppo, cambiare la percezione, cambiare la vita di molte persone, nel caso per esempio l'applicazione ai sistemi di monitoraggio nel caso di malattie. Nicole, non sapevo che tu avevi lavorato nell'IoT. Sì, vedi quante cose scopri? Dopo aver saputo che lavoravi nel cloud, adesso so che lavori anche nell'IoT. Sì, esatto, ecco c'è la parte finale devo dire, la parte finale un po' devo dire forse un po' effettivamente come chiude Sideri, utopia o soluzione, ecco lì forse probabilmente c'è un aspetto estremamente evocativo su quanto riguarda appunto l'aspetto della tecnologia, però in realtà lo spaccato anche storico che ci dà Ashton sulla nascita dell'internet of things è veramente molto divertente.